Essere vicini al padre, quindi ci insegna un po' la parabola, non significa abitare laddove abita il padre, nonostante il figlio stesse nella casa del padre. Solo il padre, pare che ci dica Gesù nella parabola di oggi, ha una capacità di nutrire ambedue i figli, sia colui che si è allontanato e poi ritorna, sia colui che invece rimane sempre nella casa. Noi non conosciamo, sicuramente nella parabola ce lo dice, quello che è il frutto dell'intervento del padre nei confronti del figlio maggiore. Gesù sembra in qualche modo non soffermarsi su questo elemento. Al contrario, a me pare che Gesù sembri soffermarsi su quella che è l'importanza di capire chi è davvero il padre della parabola. Un padre che userebbe un'attenzione particolare nei confronti del figlio perché è colui che sa accogliere il figlio, sa colui che sa fare festa per il figlio, è colui che sa occuparsi del figlio minore come del resto anche del figlio maggiore, senza venire mai meno a quella che la sua identità di padre, il quale, direbbe la parola di Dio, ha cura di tutti i suoi figli. Vorrei un attimo e concludere soffermandomi sull'espressione che il figlio maggiore usa nell'affrontare il padre. Dice, ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. A me pare di scorgere in questo modo di dire la voce di un ragazzo umiliato, sì, ma dalla propria gelosia e invidia nei confronti dei propri simili che, avendo fatto di testa propria, poi si ritrovano accolti da parte di Dio senza sé e senza ma. È un sentimento, diremmo, legittimo, ma è un sentimento che non è giustificato. È legittimo perché se noi lo leggiamo in maniera orizzontale, nel senso che si guardano gli uomini come se fossero tutti sullo stesso piano, è perfettamente uguale, così è la pretesa della giustizia umana. Ma è un sentimento non giustificato dal punto di vista paterno, perché guardando le cose in maniera verticale, cioè dal padre verso il figlio, qui si comprende come davvero ogni figlio è differente dall'altro fratello. Cioè Dio usa la sua misericordia, la sua paternità in maniera differente, perché differenti sono i figli, non omologa, non mette tutti sullo stesso piano, ma ad ognuno dà secondo quello che è necessario per la crescita nel bene del proprio figlio. Quindi è un padre che sa dare tutto al momento giusto e opportuno ad ogni figlio. E allora la risposta del padre qual è? Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Non poteva esserci una frase più umana, più bella, più giusta, ma anche più semplice per manifestare l'animo del padre. Non c'è nulla che il padre consideri come sua proprietà inalienabile. Non c'è niente che il padre mantenga per sé al contrario. Tutto ciò che è mio è tuo. Dio non mantiene nulla per sé, ma tutto ciò che i figli chiedono e di cui hanno realmente necessità, Dio lo dona. Ed è disposto anche per il figlio maggiore ad uccidere il vitello più grasso. Credo che davvero questa parabola ci insegni che nessuno può privare Dio della sua bontà e della sua capacità e del suo desiderio di accogliere ogni figlio e nulla potrà mai impedirgli di gioire per chi ritorna a lui con tutto il cuore. Concludo con un dialogo che ho ascoltato in questi giorni proveniente da un film, il Decalogo 1, nel quale c'è un dialogo tra una zia e un nipote. Il bambino chiede a sua zia che cos'è Dio e la zia, stringendo tra le braccia il bambino, gli chiede che cosa provi. Ti voglio bene, risponde il bambino. Ecco, questo è Dio, risponde la zia. Sialudato Gesù e Maria.